La parola dal tecnico del Portici, l'amico, mister Pasquale Borrelli, presentazione al termine dell'allenamento, bella squadra, viva, compatta, nonostante il gran caldo ci sono quei segnali giusti, quei segnali positivi, c'è la reazione di tutto un gruppo volitivo, compatto, competitivo. Ma sì, io ho voluto questo, ho voluto una squadra che mi dispecchia, quindi una squadra che ha voglia, che ha carattere, che durante gli allenamenti dà il massimo e poi per me conta tantissimo il sorridere, quindi bisogna divertirsi. Il calcio è un gioco di divertimento e quindi bisogna tutti quanti, bisogna divertirsi, cercare l'allenamento di dare il massimo e poi se uno si diverte, gioca a calcio, è normale che poi dopo viene la prestazione e la prestazione poi rivolta ai risultati. 20 anni, onoratissima carriera, tanti successi, tante belle promozioni. L'anno scorso agosto lo dicevamo in privato, non accettai il fatto che era diventato allenatore e che allenatore mi verrebbe da dire, dimostrando sul campo tutte le credenziali accumulate in tante anni di carriera da calciatore. A distanza di un anno ritroviamo Pasquale Borrelli, maturata, questa bellissima esperienza col Portici in eccellenza. Pasquale Borrelli è più maturo, forte di questa esperienza, i tuoi sogni nel cassetto per questa stagione che comincia a breve, il Portici è stata definita da qualcuno tra le 5 e 6 sorelle, a tuo avviso il ruolo del Portici e i tuoi sogni nel cassetto? Ma io lo sai, nella mia vita mi sono sempre prefissato gli obiettivi, sono testardo, sono capabile, metto il massimo impegno, la massima determinazione, cerco lì da smettere il mio modo di fare, il mio modo di essere a tutti i ragazzi della mia squadra. Infatti io ringrazio veramente Orlando che abbiamo usciti insieme, abbiamo cercato di fare un gruppo importante, un gruppo fatto di ragazzi che prima cosa conosco e poi che mi seguono. Quindi sanno come la penso, sanno come lavoro, sanno come interpreto io il calcio e quindi voglio che loro mi seguono e poi io dico sempre seguitemi e poi vi trovo la soluzione per qualsiasi tipo di problema. Io spero che i problemi non ce ne siano in questa stagione, spero solo che sia una stagione un po' più tranquilla sotto tutti i punti di vista e spero che mi possa togliere e ci possiamo togliere tantissime soddisfazioni. Questo è il ruolo del Portici. Agosto 2015, dicesti a fine mese, c'è materiale su cui pescare, se i ragazzi mi ascoltano in tanti potranno spiccare il volo, a distanzionare, questi ragazzi hanno avuto l'attenzione di tanti club. Adesso dopo i primi giorni, chiedevi se hai fatto del nuovo gruppo, sono tanti giovani che scalpitano, nomi interessanti, ho visto già qualcuno che si dà un grande affare. La qualità dei giovani insieme al Portici? La mia più grande soddisfazione è che i ragazzi che sono rimasti con me hanno rifiutato di altre squadre, anche di categoria superiore, per rimanere con i sottoscritti, quindi per rimanere con me, quindi questo è il motivo di grande orgoglio. E poi tutti i ragazzi nuovi, ci stava una stima che andava nella vita, quindi loro avevano stima di me nella vita, nel mondo del calcio, io appena li ho chiamati loro sono stati subito felici, hanno preferito Portici, quindi Borrelli, mister Borrelli e sono corsi da me. Questa è la cosa più importante, io voglio solo ringraziare tutti i ragazzi che ho a disposizione perché ho un gruppo importante, è un gruppo fatto di ragazzi seri, si vede dalle due settimane di luglio e da questa settimana, tutto un gran caldo, un campo difficile da mettere i piedi sopra, loro si stanno impegnando, stanno dando il massimo e veramente sono felice e spero che sia di grande auspicio per tutto il campionato, quindi veramente vi voglio fare un inbocco all'uomo perché la cosa più importante per me è che la squadra stia bene, la squadra se sta bene io sono uno di loro, quindi la squadra deve stare bene, mi deve seguire e ci divertiamo. In bocca al lupo un saluto da Calo Rosso agli amici di Portici, in conclusione il saluto del mister Pasquale Borrelli agli amici di Sport Event. Ma io voglio fare rimanere tutto, un saluto principale a tutti i tifosi di Portici, quindi noi cerchiamo con tutta la squadra di farli continuare il percorso lasciato a San Giorgio l'anno scorso, quindi spero che Portici si segua perché io ci tengo ai tifosi e loro sanno che, io so che loro ci tengono a me e quindi faccio un saluto a tutta la città di Portici e a tutti gli Uttrassi perché ci devono stare vicino. E poi un saluto principale al mio amico Fantacione, quindi Sport Event a tutti i tre spettatori perché anche a lui auguro un in bocca al lupo perché questa trasmissione possa crescere e possa anche lui togliersi qualche soddisfazione importante. In bocca al lupo a tutti. Grazie, mi sto.